musica vediamo che stai male no no bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Ale Gatch e oggi siamo insieme a offrider mountain bike e come cazzo devo chiamare a te in gamba squash con la nuova bici anche lui è nuovo del canale non l'avete ancora mai visto e ora che ha una bici ora che ha una bici decente possiamo uscire insieme a me se mi vedete con delle manopole azzurre e qualcosa di diverso tra poco capirete il motivo tra l'altro Beppe è qui senza all'insaputa di tutti quindi ora vedremo le reazioni live di tutti gli altri comunque siamo qui con Nathan, Tia e Michael senti picco perché sai impennare? vai contro il muro dove cazzo vai? oh ti senti picco perché hai un freno dietro? dai metti via sto pisello giallo ciao saluta youtube sia bucchina frate comunque stiamo andando alle sette piste sì vabbè sì vabbè sì vabbè sì vabbè sì vabbè sì vabbè comprendendo Grazie a tutti. Perché sì ragazzi, per chi mi segue su Instagram sicuramente avrà notato che un po' di tempo fa ho venduto la Mafia Bike perché non mi trovavo benissimo e ho deciso di comprarmi una Dirt Jump. Quindi ho trovato questa bici da Dirt usata e già assemblata dal vecchio proprietario. Infatti la bici in questione è un telaio Octane One Zircus montato con forcella Santur Ion ad aria con steli da 35, cerchi Hope Tech V4 su mozzi all'anteriore Deore e al posteriore Syncros. Quindi davanti abbiamo un perno passante, invece dietro abbiamo un perno a dadi con kit single speed composto da guarnitura, fan ridge e pedali Nukeproof in plastica con i pin in ferro. Molocorona da 32 denti con pignone da 18 denti. Abbiamo manubrio e reggi manubrio della Transix, manubrio da 760 mm, freno idraulico SRAM Level su disco Shimano da 180 mm, manopole Nukeproof azzurre e gomme Schwalbe Nobby Nick da 2.3. Il tutto risulta molto leggero, infatti la bici pesa solamente 11,5 kg, quindi davvero molto leggera e maneggevole. E così è come l'ho comprata, non gli ho ancora fatto modifiche ma presto ne arriveranno. Nel prossimo video vedrete un sacco di novità per questa bici e magari vi spiegherò meglio l'utilizzo esatto che ne vorrò fare. Però per ora andiamo a farci qualche salto. Ciao Beppe! Ciao! Ah che bello che sei 90! Vabbò io prendo gli indiani anche. Ma che c***o! Bella ragazzi, benvenuti su Pornado! Che saltino! Ma voglio farlo anch'io, via! Saltare fin lì sotto! Devi andare veloce per il fischio! Riprendi! Ah no, tollerò un attino! Che c***o risalto è? C'è il c***o nel culo! E' un po' saltato! Mamma mia, ho visto a terra! Io mi sa che non salterò! Che c***o! E' il salto migliore di tutti! Eh corto, dove c***o deve essere l'atterraggio? Oggi vediamo come fare scherzi a dei coglioni! Sono uno youtuber! Vado ad un po' d'acqua! Ciao! Ciao! Grazie a tutti. 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 Non siete iscritti per non perdervi i prossimi video. Da me e da tutti gli altri è tutto. E noi ci rivediamo alla prossima, ciao a tutti.